Yeah! 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 Benvenuti con il mio canale del Clink e sono i ragazzi e sono i ragazzi però volevo dirvi che quando qualcuno invia una fanart una può inviare veramente su Facebook o su Skype trovate il il nome di Skype tutto nella descrizione e vabbè comunque ogni tanto quindi metterò una fanart o un qualche video quando ve lo invierete ad esempio adesso se mi è arrivata una fanart la metto lo scrivo vicino ok? ok comunque voglio vederti anche che vederti anche che il video scorso quello là di Cat Mario che c'è il studio ha una qualità bassissima e poi c'è qualità bassa e vabbè cioè l'audio non è proprio basso cioè una qualità ma invece il video il video non c'è da niente cioè ok è visibile ma comunque fa tipo non è eliminato l'opinione di non mai il mio video del locale che avevo studiato eccetto quindi a parte se me lo segnano per copyright il video vabbè vabbè non si perché ho avuto le barre nere a destra e a destra che a me aveva fatto fastidio adesso mi faccio così girare e andare con i giorni infatti io ho sempre avuto problemi con i scrimi quindi quindi è sposo qualcosa non ho capito cioè ma io qua non trovo nessuno non è che io non ho capito non ho capito lo so c'è qualcuno? no non è vero oddio mio stava facendo una trama fighissima ma non c'è nessuno ecco ho fatto uno uno cioè è una cosa provare a fare la trama sai tipo una una checca oh no ma è impossibile si deve quello che è impossibile non è impossibile non è impossibile ti sto spiegando da cavolo però non è impossibile allora oh qualcuno ha visto che mi ha messo così perché mi ha messo così perché mi ha messo così perché mi ha messo così ciao senti perché se non mi uccidono ma l'ucido io e lei se non mi assaliscono le spalle non è non è non è ovvio è una cosa ovvio 4 kill ma va 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 che bello vedere tra una vetrina che si uccidò Pablo di me di me di me di me di me di me ho una porta scaいました non c'è nulla ho detto sono andata per cui dicono che non gioco bene condendo di credo la unità ma a parte che è difficile imparare quella unità io non gioco neanche così tanto dai nessuno si troverebbe e poi ma guarda non trovo nessuna proprio lì che trovo mi assaisce la spalla vabbè dai sono finito posso fare 2 kill e... ecco gioco vedete qualcuno? e non vedete nessuno niente da fare sta arrivando aperto questo video vero? si oddio ma ora mi uccideva qualcosa sto qui vicino così che viene qualcuno sicuramente tu ma vaffanculo si devo sfogare c'è che dai chi trovo? non è stata uscita dietro capito hai un po' una cosa brutta ora è storia lo so facciamo un po' un po' un po' un po' un po' un po' ok sono quarto no 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 ho visto che esplodeva poi viene sono terzo non ho qua non è un nemico, ho solo nemico voglio dire grazie un altro ancora? mi serve un altro di nemico, ho solo di vento secondo prima che quello fa in punta non ci sembra si però vabbè il primo sta 850 come farà altri 4-5 ci sono? ok vieni però quando sto parkour è impossibile un altro video come si cause mi piace so non ci farò nessuno si perde posto si perde la petizione e io dove miro se lo faccio il cilindro e lo consiglio dell'amador come lancio il filo? oh c'è la scopera mi manca la coccisione di fila me lo ando a morire e io dovevo fare una coccisione senza morire io ero specialist o che volevo fare ero a mezzo in camion ero bello bellino ok sono terzo, è impossibile diventare secondo vabbè io io gli stavo facendo la cornice tanto per cambiare niente da fare ma sto parkour è impossibile da fare stasera oh madò avevo visto qualcuno ok ho mandato il replay se ho mandato il replay se c'era qualcuno nessuno si perchè io amo di fare i video proprio per te mi piace modificare sali prima ho fatto un volo della madonna ancora terzo vabbè secondo non posso diventare quattro sicuro quindi devo muovere un po' devo muovere un po' l'arma come ho fatto a ucciderlo questo è il mistero abbraccio da Adam Cadebult non si conseglie da nessuna parte c'è il blocco questo coso non c'è non faccio parte col tempo che posizione sexy cioè guardate una cosa bellissima questo video è più editato del mio canale va bene vabbè non è molto è un video di 10 minuti editatissimo questo è un video più editati che cosa è un video di più editati ed è stato ecco io ci provo sempre ma lo so che poi alla fine muoio ma sempre muoiamo poi sono morto oh per l'astento no sono quarto vado a recuperare in un minuto baffanculo 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 fino alla partita quando io sono detto il quarto baffanculo 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 madonna vabbè ragazzi questo è uno dei miei video di mv3 più editati vabbè a seguito del video vi piace commentate iscrivetevi al prossimo video di mv3 comunque nel prossimo video e questo era tutto dal link click è tutto questo era tutto ok ciao 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 ciao